Salve 7 luglio San Marino festeggia il decimo anniversario del proprio inserimento nelle liste del patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO e lo fa con un importante evento l'apertura del nuovo museo di arte moderna e contemporanea galleria nazionale San Marino la rinnovata sede è il magnifico edificio degli anni 30 loggio dei volontari ristrutturato per l'occasione che accoglierà una selezione della collezione d'arte contemporanea dello stato di San Marino composta da più di mille esemplari di alcuni dei nomi più conosciuti della storia italiana del novecento quali Renato Guttuso, Emilio Vedova, Sandro Chia, Enzo Cucchi, Corrado Cagli, Giuseppe Spagnulo, Enzo Mari, Luigi Ontani e altri. Il percorso si svolge in quattro aree storico tematiche che partendo da riferimenti alla storia dell'arte di San Marino del ventesimo secolo come le biennali internazionali di San Marino, il progetto Spagnulo Manzoni, la Scala Santa di Enzo Cucchi e l'intervento di Maurizio Cattelan ampliano il discorso verso la grande arte italiana del novecento. Le sezioni sono il secondo dopoguerra tra realtà e astrazione, arte contemporanea e linguaggi sperimentali, un nuovo classicismo tra tradizione e innovazione ed infine l'archivio performativo dedicato a progetti realizzati negli anni più recenti e contemporanei che sarà costantemente aggiornato. Il museo è un progetto degli istituti culturali promosso dalla Segreteria di Stato Cultura della Repubblica di San Marino in collaborazione con il Maga di Gallarate. L'installazione di Enzo Mari è una delle più eccezionali opere della collezione della Galleria Nazionale di San Marino. Si tratta di un palco, una messa in scena di un dialogo tra cinque personaggi, Fidia, Galileo, Duchamp, i settenani e l'idiota che parlano, provano a comunicare tra loro sulle relazioni tra arte e scienza e tra arte e la vita di tutti i giorni. Inaugura oggi la Galleria Nazionale di San Marino, un museo prestigioso dedicato all'arte moderna e contemporanea con una sede rappresentativa di nuovo restauro, con una collezione permanente che si è costituita lungo gli ultimi decenni a partire dal secondo dopoguerra e nome di artisti italiani internazionali che hanno qui lavorato e prodotto opere straordinarie come Vedova, come Birolli, Enzo Mari, Giuseppe Spagnolo, Cucchi e Chia, quindi artisti che a San Marino hanno realizzato progetti o mostre interessanti che hanno lasciato le opere in questa straordinaria collezione. Sarà un museo attivo, dinamico, aperto al pubblico, capaci di attrarre anche un pubblico internazionale interessato all'arte moderna. La Galleria Nazionale di San Marino vi aspetta ogni giorno dalle 10 alle 18 nelle loggie dei volontari al Giardino dei Liburni.